E' stato un fantastico spettacolo come sempre la 43esima edizione della Marcia Longa, regina delle Gran Fondo Invernali, la più bella gara di sci di fondo italiana. 70 km di pura fatica dalla partenza di Moena fino all'arrivo di Cavalese, su un percorso che si snoda tra i boschi e i paesi delle valli di Fiamme Fassa in Trentino. Nonostante la poca neve, l'organizzazione impeccabile di Marcia Longa è riuscita a mantenere il tradizionale percorso di 70 km che ha visto la vittoria del norvegese Gerdalen per la parte competitiva. Ma la vera Marcia Longa è quella dei cosiddetti bisonti, la maggior parte di quegli 8.000 iscritti arrivati da tutta Italia, Europa e anche da altri continenti per non mancare a questo appuntamento. Il più anziano partecipante di questa edizione, Antonio Giannola, compirà 87 anni ad aprile, il più giovane, Samuele Bonelli, ne ha solo 17. Quella striscia di neve, quel serpentone di eroi, ha regalato come sempre emozioni indescrivibili. Appuntamento al prossimo anno e grazie per lo spettacolo.